Resterà chiusa il traffico veicolare via Dante a Lighieri, ad Agropoli per compiere lavori alle opere fognarie al fine di prevenire allagamenti in caso di pioggia. Gli interventi avranno durata pari a 20 giorni a partire dal lunedì 8 ottobre 2018. La chiusura completa al traffico veicolare risulta necessaria in quanto la zona dei cantieri si trova in un punto molto delicato in prossimità della centrale Enel con relativa di ramazione dei cavi dell'alta tensione verso i diversi punti della città. L'accesso sarà comunque consentito ai residenti e ai mezzi di soccorso e dalle forze dell'ordine. Ovviamente sono stati studiati i percorsi alternativi consigliati ai cittadini per cercare di smaltire il traffico.